ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video allora il rossetto che sto indossando è il color boost mad about matte liquid lip sting numero 07 di essence anche perché so che molti me lo chiederanno soprattutto nelle direct di instagram il maglioncino è super caldissimo e pucciosissimo perché pelosissima ed è bellissimo tutto inissimo azzurro con il colletto fatto in questo modo e di qua si può mettere comunque un collo con lo morbido ed è bellissimo ma bando alle ciance mi è appena arrivato neanche cinque minuti fa l'ultimo quindi il secondo si ordine che ho fatto da pink panda ed è qua ancora non l'ho aperto o meglio ho aperto per vedere se il contenuto c'era tutto se c'era la mystery bag però non li ho aperti quindi come al solito andiamo prima con gli acquisti che ho fatto io e poi con la mystery bag allora prendiamo il tutto che ovviamente ben almeno spero come l'ultima volta ben incartato cos'è questo codice promozionale mi è arrivato vabbè lo vediamo dopo e qui c'è il mio ordine eccolo qui allora mettiamo questo mettiamo a terra ma sì allora la mystery bag c'è ed è qui ora andiamo subito ho preso un ho fatto un ordine che è mega sbrilluccicoso come dico io perché? perché ho preso tutta una serie di illuminanti ho preso il famoso goddess of love no ok sì il goddess of faith è di qua love che è questo qui vediamo se metto a fuoco questo qui il famoso cuoricino che è sul dorato tutti questi diswatch ve li farò nel prossimo video ovviamente e questo qui credo che sia costato riprendiamo credo che sia costato questo qui 6,99 ma dicono che sia bellissimo lo proveremo poi ho preso il lightning lightning sempre questo colore che sembrano quasi uguali ma non lo sono uno è più chiaro e uno è più scuro però uno dà l'effetto bagnato che è wow l'ho visto poi ragazzi hanno hanno sbagliato hanno sbagliato no proprio la cosa che volevo di più la palette degli illuminanti comunque i revolution vivid golden lights che è questo qui sempre makeup revolution bianco ci sono rimasta malissimo ragazzi veramente tanto male mi hanno mandato questa palette ma non è questa quella che volevo io cioè la cosa che mi piaceva di più ragazzi avevo fatto l'ordine quasi solo per quello era la palette di illuminanti e bronzer c'è una palette tra l'altro c'è ragazzi veramente live love c'è questa palette qui c'è orribile a parte vabbè non mi piace ma non è quella che volevo ora devo mandare l'ordine rifarlo nuovamente rispedire questa faccio un manicomio da fare non era questo ero così felice di avere quella lì mannaggia vabbè ora vediamo come fare vabbè ragazzi ci sono rimasta malissimo giuro veramente tantissimo male ma anche perché l'ho pagata comunque per il prezzo che era comunque la winter winter world land quindi la mystery bag spero dio che non ci siano nuovamente le maschere perché veramente no le maschere no perché non se ne può più le montagne jeunesse veramente alla nausea alla nausea spero che non ci siano seconda limetta inutile oh neanche a dirlo ragazzi che tra l'altro uguale a quella che mi hanno mandato la scorsa volta una sola e le stesse identiche tra l'altro ho provato questa qui nulla di che poi mi hanno mandato una seconda pinzetta quella quella dell'altra volta un altro rossetto della makeup revolution questa volta nel colore rosa va bene e questa palette che non mi ricordo se ho sempre della makeup revolution la iconic vitality questa qui niente ragazzi allora questa qui già l'avevo quindi penso che la darò a mia mamma la passerò a mia mamma perché è uguale a quella della scorsa volta identica vabbè che fortuna veramente ho aspettato questo pacco non so quanto tempo alla fine una delusione immensa tutte cose che a parte le maschere vabbè questo veramente non so ragazzi se mi date il tempo io vi faccio vedere vi faccio vedere quella la palette che io avevo avevo scelto di illuminanti era della live e love live e love e illuminanti ve la faccio vedere di qua vediamo se la trovo allora aspettate un attimino forse non c'è un attimino vediamo ok ragazzi era questa qui era questa la palette che io ho mandato a ritirare e questo qui è l'interno cioè praticamente avevo fatto l'ordine quasi esclusivamente per avere questa questa qui eh niente non è stato possibile proprio la cosa che volevo scrivetemi giù nei commenti se sapete come poter rimandare indietro questa qui perché non è quella che ho preso io e mi raccomando mettete tanti pollici all'insù iscrivetevi al canale seguitemi sul mio profilo di instagram e l'umore è andato giù perché veramente a parte le cose le tre cose che avevo preso la mystery bag è bruttissima e ormai penso che non ne valga più tanto la pena come prima volta ok ma le seconde poi sono sempre le stesse cose questa qui che non mi piace completamente questa doppione niente questo pack on flop a parte le tre cose che avevo comunque preso io niente ragazzi non è successo niente cercheremo di provvedere iscrivetevi al canale besitos che c'è che c'è